Ed ecco a voi l'universo bizzarro di Wink Winkenson presentato da Wink Winkenson. Salve amici, ecco il vostro Wink Winkenson bizzarro e imprevedibile. Come state oggi? Io e il torcicollo, ma me lo sistemo subito. Oh, adesso sto molto meglio. Oggi c'è un programma con degli ospiti fantastici venuti qui per voi. Lei cosa fa qui? Cosa? No! La prego signora, no! Si rimette i vestiti. Solo Wink Wink non può farlo. E se entrasse suo marito... Eccomi qua Wink, mi spiace ma devo ammazzarvi tutte e due con questa mitragliatrice. Oh, mi ha colpito! Mi fa male, mi fa male qui! Ok, il nostro primo ospite è un giovanotto di cui forse avete letto sui giornali. Il giovanotto si chiama, come si chiama? Simor Kleborn, ho detto bene, che ha scoperto una pianta finora sconosciuta sul nostro pianeta. Una musichetta per te, Simor! Salve, Simor! Salve, Wink! Dove hai pescato questa strana pianta? E grazie di averla portata qui, da noi! Ricorda l'eclissi totale di sole di circa sette giorni fa? Ciao!